Ho da poco girato il video sull'agenda che vi lascio, spero vi darò prima, nell'info box e anche dove si mette la i, qui, 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 insomma da qualche parte vi uscirà il riquadro che era appunto il video consigliato. Sono stata all'Ocean e ho preso qualche cosina così random proprio perché appunto la bimba mi ha permesso di avvicinarmi alla sezione catteleria in quanto da quando sono mamma cerco di evitare le sezioni che riguardano tantissimo materiale piccolo perché lei subito corre e è un dramma. Come addirittura il reparto vini e altro perché le bottiglie di vetro per chi è mamma sa benissimo sono off limit, cioè veramente bottiglie di olio, vini, birra, succhi di tutto in vetro e quant'altro assolutamente carri, sono corridovi da abolire. Quindi dopo questa piccola parentesi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto. Ho comprato questa Pilot Pilot G2 che devo dire è una delle penne che ho sempre acquistato quando erano le mie di tipo, sì, è una penna che amo e odio, ossia essendo una penna in gel praticamente si consuma subito, cioè se scrivete tanto come me calcolate che ho ordinato la penna. Gli ho spesso che poi vi recensirò e per un progetto che sto facendo sto scrivendo tantissimo veramente e l'ho consumata in tre giorni e quindi veramente sono rimasta sconcertata, non va bene. Per la nuova agenda volevo una penna che era la punta fine, che aveva un bel tratto e che comunque appunto non mi deludesse per la nuova pagina e poi si sa benissimo che si parte con tutti i buoni propositi e poi si va a scemare. E poi si scrive anche con il pennello per dire sì, io sono una delle persone che inizialmente scriveva bene a scuola e poi dopo a mano me ne andavo per fatti miei. E poi ho acquistato un tempera matite perché li ho persi ragazzi, non so, prima si perdivano le come un tempo, io perdi i temperini, ma li ho perdati in casa è pure il problema. E quindi ho preso questo qua che costava 99 centisimi ed è tre fuori, verde, non chiedemi perché questo, oh se si è verde ma va bene, è verde, open. Oh la la. Allora, sono sorpresa perché io ho una matita gigante che adesso non trovo perché mia figlia se l'è fregata e con questa posso temperarla, quindi posso utilizzarla e quindi finirà e quindi la potrò buttare finalmente che non so porti più. Scusate, ma è uscita in napoletana anche me. Appunto, qua abbiamo scritto anche per cosa utilizzarli, quindi qua è scritto, non so se si legge qui, perché non ho quella cosa bellissima appunto, ecco qua, per farvi capire, perché io ho letto con il jumbo, quindi appunto per i pennelli, i pennelli si temperano, sì da oggi i pennelli si temperano, no, i pennelli jumbo. Abbiamo qua i color, quindi i colori e qui la grafitto, la cosa bella è questa nel tappo, riporta i millimetri, quindi 16 millimetri, 11 millimetri e qui tu che numero sei? 8 millimetri. E' fantastico, questo mi piace da morire, per 99 centisimi è fatto bene e poi appunto il serbatoio che sinceramente e amo e odio il serbatoio. Ma va bene, lo sto rivalutando, ne ho lo speso bene. Poi, le ultime cose sono sfizzi, ma realmente sfizzi, perché se lo ho acquistate queste due cose, poi la prima mi sono fatta prendere la mano, come da solito. Va bene, partiamo subito. Ho acquistato questi qui che sono i carioca, neon, lavabili. Ah, sono lavabili, che bello. Sì, perché adesso mia figlia sta evitando tutti i miei pennelli e quindi il fatto che sia lavabile mi conforta. Ciò, c'è un po' smacchiare magliettine. Prendolo a vedere così. Che cosa stupido? Ci sono dei tappi trasparenti. Allora, abitiamo un pochettino. Fermi tutti. Abbiamo questi stupendi colori. Capire l'utilità di questo tappo. No, così non va. Spiegatemi perché il tappo è così grande. Perché il tappo è così grande? Cioè, spiegatemi perché consumare un tote plastico va bene. Si incastrano uno con l'altro? No. C'è una super penna? No. Ne provo velocemente qualcuno. C'è una super penna? Poi, giriamo la pagina. Sì, ho altre cose da mostrarvi. Tutto carioca. Non so perché. Sono torna da bambino. Da bambino utilizzavo sempre carioca. Questi. Questi sono la... Penso la lorina. Il pastello. Molto molto carini. E che riprendono appunto le sfumature del pastello. Perché abbiamo rosa. Un rosa. Pelle. Pelle, carne. Come si vuol dire? Arancio. Giallo. Insomma, bello, bello. Molto carini. 12 pastelli da 3.3 mm. Molto carini. 3.3 mm. Che cazzo, no? Sì. Io non voglio provarti. Voglio solo vedere come c'è. Sto scherzando. Io devo provare. Proviamo un colore scuro. Proviamo questo. Intanto lo schifo. Allora, scritta appunto carioca pastel. Mi piace tantissimo questo fondo. È molto morbida la mina. Abbastanza... Si sente che c'è parecchia cera all'interno. Perché scivola bene. Molto bene. È proprio morbida la mina. Molto molto carina. Non li sto qua a provare tutti quanti. Perché appunto sono pastelli. Sarebbe da pazzi e da sceni. Provarli tutti. C'era il grigio che potevo provare. Perché l'hanno trovato quello. Ok, perché sono, ragazzi. Che mi ricorda. Ultima cosa. Poi sto parlando da un sacco di tempo. E questi qua. Sempre carioca. Sempre pastel. Sono otto. Questi qua sono anche super lavabili. Che bello. Non ci ho fatto caso. Perché veramente con la bimba a volte... Macello. Molto molto carini. Il pack mi piace da impazzire. Perché è un trasparente. Quindi... Rispetto a questo qua. Che non ho visto i rappi orrendi. Diciamo che ci sta. Ci sto tutto. E poi hanno queste nuvolette. Molto carini. Ok. Prendo questo qua. Questo verde pisello. Ok. La punta è la stessa. Sì appunto. E appunto appunta. Diciamo che questo. Il giallo. Il rosa. Il viola. Riprenderò molto gli stabilo pastel. Appunto. Che io ho utilizzato. Perché ho schifato. Sono sincera. Forse in qualche recensione qui su YouTube. Ho detto che comunque erano abbastanza decenti. Ma dopo un uso assiduo di quegli evidenziatori. Ho detto ma anche no. Poi ecco. Ritorneranno anche i video. Top e flop. A cartoleria. Oltre che comunque penso qualche altro video. Un po' niente a... Alla vita da mamma. Perché alla fine è quello che sono. Sono mamma. Quindi. Ecco tutto. E... Credo che arriveranno anche dei guai. Riguardo a... Modi per... Ottimizzare lo spazio in casa. E quant'altro. Anche se stiamo ancora con i lavori. Quindi è un macello. E va bene. Noi siamo fatti così. Siamo una famiglia che fa le cose. Piano piano. Perché correre quando possiamo farle con calma le cose. E va bene. Questo era tutto il... L'ambra d'am. Vi ho mostrato l'agenda. Vi ho mostrato appunto anche gli acquisti. Quindi adesso posso andare anche a rilassarmi. Perché la bimba dorme. Di utilizzare questi... Graziosi acquisti. Non male. E nulla. Io vi mando un vostro bacio. E se volete seguite su Instagram. Mi raccomando la ragazza con il codino. E un bacione. Ciao.